Mi dicono di temporeggiare, quindi io nel contempo faccio anche un saluto ai tifosi della Salernitana che sono rimasti in Serie A. Facciamo un applauso alla Salernitana? Allora, scendo da voi se non sono ancora pronte, preparatevi. Mi lascio ancora un po' tranquilli. E intanto ne approfitto per ringraziare nuovamente chi ha permesso la realizzazione di questa serata. E quindi ovviamente l'amministrazione comunale di Baronissi ed in particolare al sindaco Gianfranco Valiante, all'assessore allo spettacolo Giuseppe Giordano e all'assessore all'ambiente Alfonso Farina. E poi ovviamente salutiamo e ringraziamo i nostri sponsor regionali, quelli del Tour 2023 che potete vedere sullo schermo durante la serata. Un ringraziamento anche ai nostri media partners che sono Radio Bussola 24, Il Potere della Musica, e Telecolore Canale 75. Facciamo loro ancora un forte applauso che hanno reso possibile questa serata. Le ragazze sono pronte e allora una sorpresa per voi! La storia è la storia di Napoli, 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 Napoli! La storia è la storia di Napoli, Napoli, Napoli! Napoli, Napoli, Napoli! La storia è la storia di Napoli, Napoli, Napoli! La storia è la storia di Napoli, Napoli, Napoli! La storia di Napoli, Napoli, Napoli! Grazie a tutti Grazie a tutti La mia Napoli, Napoli, Napoli Napoli, Napoli, Napoli Forza Napoli, Napoli, Napoli Napoli, Napoli, Napoli La mia Napoli, Napoli, Napoli E questo era l'omaggio di Miss Sud allo Scudetto vinto da Napoli quest'anno